Contrasti familiari legati ai beni avuti in eredità e denunce reciproche. Questo è il movente dell'omicidio del 57enne Francesco Tabbi, freddato da più colpi di arma da fuoco all'alba del 10 dicembre nelle campagne di Riesi. Grazie alle serrate indagini del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica, si è infatti riusciti a dare un volto ai probabili assassini, colpiti da un provvedimento di fermo indiziato di delitto emesso dalla locale Procura della Repubblica, eseguito nella notte tra il 14 e il 15 dicembre dai Carabinieri. Si tratta del pregiudicato 28enne Rocco Tabbi, bracciante agricolo, figlio della vittima e del 36enne Calogero Bartoli, operaio incensurato. I due fermati, legati da rapporti di amicizia e frequentazione, in quanto Rocco Tabbi è fidanzato della sorella della moglie di Calogero Bartoli, secondo quanto accertato dai militari, avrebbero premeditato l'omicidio dopo che Francesco Tabbi avrebbe tentato di colpirli a colpi di arma da fuoco. Recuperato il fucile calibro 12 utilizzato per l'omicidio, che Calogero Bartoli, legittimo detentore, aveva occultato in un terreno di proprietà di sua madre. I due fermati si trovano ora alla casa circondareale di Caltanissetta, a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa della convalida da parte del GIP. Sempre i carabinieri del nucleo operativo di Caltanissetta, guidati dal luogotenente Angelo Contino, hanno tratto in arresto a Riesi, in flagranza di reato, il 22enne pregiudicato Simone Alabiso, per tentato furto di autovettura. Il giovane è stato individuato a seguito delle indagini avviate dopo i numerosi furti di auto, registratisi di recente nei comuni di Caltanissetta, Riesi e Sommatino. Dopo aver pedinato il 22enne, i militari in abito borghese, lo hanno infatti sorpreso mercoledì sera, mentre cercava di rubare una Fiat Punto parcheggiata in Viale Trento a Riesi. Bloccato è stato arrestato. Il giovane si trova ora ristretto ai domiciliari.